Ogni istante della nostra vita è una scelta. Ogni scelta è un bivio. Puoi scegliere come divertirti, quello che bevi. Puoi scegliere se essere responsabile o distratto. Puoi scegliere di tornare a casa. Oppure no. Ma ricorda, finché non è troppo tardi puoi fare la cosa giusta. Per te stesso e per gli altri. Perché la vita vale. Quando guidi, guida e basta. Una campagna promossa da Anas S.P.A. Gruppo FS Italiane. Grazie a tutti.